I chitti circondi. Io mi ricordo quando era proprio all'inizio della mia carriera, tenne questi incontri divulgativi di psicologia, se non aperitivo con lo psicologo, tra l'altro io tenevo con un collega in particolare. Vieni a vedere uno di questi incontri dove mi interagionavo io e questo collega e tu alla fine mi dissi, non capisco perché lavori con lui. Quello che mi volevi dire è altra. Se ti circondi di persone a questo livello, hai più possibilità di arrivare a questo livello. Assolutamente. Se ti circondi di persone a livello professionale, a questo livello professionale, va benissimo che possono essere grandi amici, però se il tuo obiettivo è arrivare a questo livello professionale, sempre parlo di livello personale, capisci che se sei circondato da questo ti sarà difficile, davvero di stimoli per emergere. Questo per me è stato il motivo di arrivare dove sono arrivato oggi. È semplicissimo come concetto ma è stra fondamentale. Molto spesso le persone intorno a noi, i nostri amici di infanzia eccetera, tendono a non voler farti cambiare. Non lo fanno per cattiveria, lo fanno perché in realtà ti amano. Se una persona cambia, meglio o peggio, spesso e volentieri tende a distanziarsi da il concetto, le aspettative che l'amico si è fatto. Con la parentesi, quando Fabio decise di partire, tutti noi famiglie o nemici, un gruppo di quattro persone molto affettate, tutti noi, lui stesso su se stesso, gli dicevamo, no ma dove va la Twin Inghilitero, guarda non ce la farei mai, lui stesso, sì sì, lo so, non ce la farò mai, però ci provo. E mi ricordo che io poi a mia distanza ti disse, ma sai, che stronzi che siamo stati, direte così, e tu mi risposi proprio no, sai, all'inizio anche io ci sono rimasto male, però poi ho capito che voi non me lo diciate perché non volevate, perché crescessi, perché volate tenermi. Assolutamente. Questo come risultato ha portato a perdere tantissime amicizie che avevo a quel tempo, e grazie a Dio ne ho mantenute poi quelle migliori. Persone che ti sono vicine, che hanno quella apertura mentale, anche se poi ti perdono per determinato tempo, poi alla fine ti conquesteranno sempre perché uno deve uscire da questo concetto di famiglia per poi raggiungere determinati livelli, semplicemente perché è normale, si sfida con se stessi tutti i giorni. Questo diciamo è lato A. Il lato B è chi si va a incontrare. Se una persona ha degli obiettivi, si va a incontrare persone con gli stessi obiettivi, possibilmente magari anche a livelli ancora più alti di cui uno, in quel campo che vuole raggiungere. Tu sei un psicologo, conoscere psicologi più bravi o semplicemente più famosi, semplicemente con delle tecniche che tu vorresti imparare, spendere tempo con loro sicuramente porterà, e lo fa già, però questo sicuramente ti porterà dei grossi vantaggi. Se uno è al 100% della sua capacità e deve arrivare al 110%, e conosci già una persona che sta al 115%, questi 15 punti, semplicemente osservando la persona davanti a sé, spendendoci tempo, è più facile che li raggiunga, è semplicemente un discorso di osmosi. Ascolta, questa è una cosa che non ti ho mai chiesto. Paura!